Bravo e finalmente soddisfatto della prestazione del suo Genoa, Cesare Prandelli nel post partita elogia tutto il gruppo, grande prova e sono contento per tutti quelli che qui lavorano e tifano Genoa Sturaro? Stefano ha lavorato tanto da quando è arrivato, sta cercando la condizione perfetta ma la struttura, la capacità di leggere le situazioni è quella di un giocatore vero Calendario difficile, non cambia il nostro orizzonte. Quando fai una prestazione di questo livello, torni ad allenarti con la consapevolezza che queste grandi prove si possono fare, l'obiettivo però resta la salvezza perché nessun avversario molla di un millimetro